Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale alla quale sovente connessa anche una notevole povertà sociale. Faccio appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio. È uno dei passaggi chiave del discorso che Papa Francesco ha rivolto al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede in occasione del tradizionale incontro di inizio anno. Agli esordi di una nuova pagina di storia dell'umanità non si può non constatare tristemente che ancora oggi milioni di persone vivono al centro di conflitti insensati, primo fra tutti quello in Siria, una vera e propria sciagura umanitaria, per la quale il Pontefice ha chiesto ancora l'intervento della comunità internazionale perché dia vita a un negoziato serio. Dialogo e coesione sono state invocate per tutto il Medio Oriente, soprattutto tra israeliani e palestinesi, così come pure in Venezuela, in Sud Sudan, Myanmar e Ucraina. La pace è una virtù attiva e richiede l'impegno e la collaborazione di ogni singola persona, ma esige pure che vengano eliminate le cause di discordia che fomentano le guerre, a cominciare dalle ingiustizie, povertà endemica, bambini sfruttati e privati della propria infanzia, lavoro clandestino, prostituzione. Dinanzi ai tanti orrori di cui è capace l'essere umano, Papa Bergoglio ha auspicato il diffondersi di una cultura della misericordia che sensibilizzi l'uomo dinanzi al dolore del proprio fratello, di cui il pensiero è corso subito al tema dei migranti, dei profughi e dei rifugiati, persone con nomi e storie, non semplici numeri, una questione che non può lasciare alcun paese indifferente. Cari ambasciatori, la pace è un dono, una sfida e un impegno. Un dono perché si sgorga dal cuore stesso di Dio. Una sfida perché è un bene che non è mai scontato e va continuamente conquistato. Un impegno perché esige l'appassionata opera di ogni persona di buona volontà nel ricercarla e costruirla. Non c'è dunque vera pace se non a partire di una visione dell'uomo che sappia promuoverne lo sviluppo integrale, tenendo conto della sua dignità trascendente, poiché lo sviluppo è il nuovo nome della pace, come ricordava il viato Paolo VI. Paolo VI